Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci occuperemo principalmente di politica, lo faremo in vista delle prossime elezioni amministrative, visto che anche in provincia di Firenze si voterà in 35 comuni, ma sono tanti quelli che andranno in voto in tutta la Toscana e in tutta Italia, tra cui anche diversi capoluoghi di regione e di provincia. Noi ci concentreremo, come detto, sulla zona della città metropolitana di Firenze, partendo però poi anche dalle notizie del giorno. Lo faremo con un rappresentante del Partito Democratico, anziché il segretario metropolitano Marco Decati. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come dicevamo, partiamo un po' dalle notizie del giorno, anche perché insomma le ultime operazioni del governo ci danno in qualche modo degli spunti, soprattutto degli spunti che hanno provocato diverse polemiche nelle ultime ore, anche a partire da questioni sollevate dal Partito Democratico. Una delle principali è quella che riguarda il cosiddetto salvabanche 2, lo potrebbe chiamare qualcuno, diciamo così, noi giornalisti ci piace dare i titoli. Questo potrebbe esserne uno, visto che con un decreto in qualche modo si garantiscono un aumento di capitale per la banca Carigie, grazie in qualche modo appunto a una tutela che viene data attraverso fondi statali. L'ho semplificata, ma più o meno è questo. Il PD oggi va all'attacco, dice ci avete messo in croce per quello che fu il salvabanche di Renzi, oggi fate la stessa cosa. Eh, sì, fanno la stessa cosa. E questo dà la misura della differenza dello stare in piazza o di stare al governo e dover prendere e assumere decisioni importanti. Ribadiamo subito un concetto. Il governo ha fatto bene ad aiutare Banca Carigie, per i dipendenti della banca, per gli azionisti, per i cittadini che hanno i loro risparmi all'interno di questo ente di credito. Eh, però, se ricordiamo tutte le offese e gli interventi in Parlamento, anche i disponenti autorevoli, del Movimento 5 Stelle contro il Partito Democratico, contro Matteo Renzi, allora segretario e primo ministro, contro Malena Boschi, per le iniziative che prendevano nei confronti delle banche, allora in difficoltà, e beh, allora la polemica nasce spontanea. Occorre serietà quando si è al governo, occorre serietà però anche quando si è all'opposizione. Quando si sbraica troppo in politica, poi ci si trova a questi punti. Una banca in difficoltà e dopo che hai attaccato altre forze politiche a te, avversarie, per lungo tempo, ti trovi a dover attuare gli stessi principi e gli stessi approcci per tutelare i risparmiatori, i cittadini e il popolo dal loro tanto amato. E' un limite grosso, ora ne pagheranno le conseguenze, ripeto, hanno fatto bene, poi l'hanno fatto un po' di notte, un po' alla zitta, no, sembra. E dieci minuti notturni ha detto Renzi. Dieci minuti notturni. Hanno fatto comunque un provvedimento giusto, che però rende giustizia al lavoro che il PD, Matteo Renzi, e l'allora governo di centro-sinistra portavano avanti con difficoltà e con le criticità del caso, nei confronti di altre banche che in periodi passati si sono trovati nella stessa situazione di Banca Carice. Senta, vabbè, poi a questa questione ha risposto Salvini, ha detto, mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favore alle banche, agli straniere o agli amici e degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani, bene il mila e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati, come dire, alcuni erano truffati e oggi invece si tutelano. Lui è dover spiegare quello che ha fatto. Secondo noi ha fatto la stessa operazione, oggi guardavo Tg. La Sette e sicuramente non è amico del PD, e ha sottolineato come è la stessa operazione che il governo ha portato avanti sulla banca Monte di Paschia di Siena. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi Salvini dovrebbe spiegare che non ha aiutato i suoi amici di Genova, ma ha aiutato soltanto i correntisti. Io credo che abbiano fatto un'operazione corretta, ripeto, che però fa il pari di quello che giustamente faceva il governo di centro-sinistra. Senta, altra questione invece è quella che riguarda il decreto sicurezza. Questo in qualche modo è un decreto che è stato, doveva arrivare perché in campagna elettorale ci si era fatta una vera e propria questione morale e politica, ovviamente per quanto riguarda soprattutto la parte della Lega. Oggi però c'è una levata di scudi vera e propria da parte dei sindaci, tra cui anche il nostro sindaco di Firenze in Ardella e il presidente di regione, tra cui anche Enrico Rossi, con un ricorso alla consulta proprio contro il decreto sicurezza. Dichiarato, insomma Rossi lo ha definito, non ricordo la parola esatta, lo ha definito immorale, completamente ingiusto perché lascerebbe persone per strada. L'appello dall'altra parte, il rimando è stato, non si possono non ottemperare le leggi sostanzialmente. Secondo lei hanno fatto bene Ardella, Rossi e tutti gli altri che poi non sono solo loro? Allora, le leggi vanno rispettate, sono leggi dello Stato, c'è un governo che le promulga, che si sono decreti leggi o leggi approvate dal Parlamento e quindi le leggi vanno rispettate. Ciò non toglie che, se queste leggi vanno a ledere alcune iniziative che regioni e comuni devono prendere per costituzione nei confronti, in questo caso, dei migranti, gli stessi enti possano ricorrere agli organismi riposti e protestare dal punto di vista politico nel merito di un decreto che, a detta nostra, può generare grosse difficoltà e insicurezza, non sicurezza. Perché il limbo degli sprayer che permetteva di iniziare un'integrazione di queste persone, la possibilità di iscriversi all'anagrafe e quindi la possibilità di accedere ai servizi sanitari, ai vaccini per i bambini che arrivano qui da noi e come PD abbiamo sempre fatto una battaglia convinta nei confronti dell'opportunità di vaccinare i nostri figli per tutelare tutti, anche i più deboli, e questo viene meno. E questo venir meno può generare una situazione di criticità dal punto di vista pubblico perché se, come sembrano, sono circa 900 in città metropolitana le persone si potrebbero trovare a spasso e chiaramente questo può generare grosse difficoltà sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista sanitario. Quindi ritengo fondamentale e sacrosanto l'azione del Presidente Rossi e il sostegno da questo punto di vista del Sindaco Nardella perché se un provvedimento come questo può generare questa criticità e quindi, da un certo punto di vista politico, mentire anche sulle prospettive che questo vuole dare, penso sia opportuno che un ente si opponga da questo punto di vista. Si oppone a 360 gradi, prendere in merito un paio di questioni che non permettono agli enti di mettere in pratica quello che la Costituzione gli chiede. Tra l'altro su questo, proprio sulla parte che riguarda migranti e richiedenti asilo, insomma proprio oggi la sesta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi del CSM, lo ha in qualche modo bocciato, lo ha definito incostituzionale, quindi vedremo perché poi inizierà una discussione, si terrà mercoledì, tra l'altro i relatori di questo testo sono Alberto Maria Benedetti del Movimento 5 Stelle e un altro Paolo Cricuoli di Magistratura Indipendente, quindi diciamo non due, se uno volesse anche ritrovarci una questione politica in questo. Poi si è espresso anche il Vice Presidente del CSM, Davide Ermini, ha detto che la sfida dell'immigrazione richiede da parte della comunità internazionale politiche condivise e solidali e ha detto all'usore pensare di arrestare le ondate migratorie presidendo le frontiere in una prospettiva di chiusura autarca, questo anche nel merito poi più generale della questione. Vedremo perché effettivamente in qualche modo poi si sta ampliando il core di chi dice soprattutto di quelli che potrebbero essere gli effetti anche di sicurezza cittadina rispetto che potrebbero derivare dall'azione di questo decreto, da quelle poi sono le prospettive concrete di quelle che causerebbe questo decreto. Ultima questione, poi passeremo a parlare delle amministrative, ma in questo caso già ci arriviamo in qualche modo nel nodo fiorentino, è un po' la questione delle tramvie, per due motivi. Da una parte perché i tanto attesi collaudatori della linea 2 della tramvia di Firenze oggi sono arrivati proprio nel giorno in cui comincia Pitti, quindi oggi a Firenze è stato un po' un delirio, e tra l'altro c'è stata proprio una lettera di Toccafondi, del deputato Gabriele Toccafondi insieme al consigliere della città metropolitana Marco Semplici e hanno voluto anche così dire, insomma, pensare male che si fa peccato, però a volte ci si azzecca, hanno scritto chissà perché proprio oggi dopo otto mesi in cui potevano essere mandati i collaudatori della linea 2 con un traffico che si è creato indescrivibile, dall'altra parte la Lega oggi boccia in qualche modo il progetto della tramvia fino a Firenze Sud e quindi fino a Bagnarripoli, dice vedendo quello che è stato Piazza Dalmazzi e il nodo del traffico, non pensiamo di fare una tramvia che possa arrivare a Bagnarripoli, almeno al progetto che è stato pensato. Qual è la sua posizione? La mia posizione è che le linee tramviare vadano portate avanti a Firenze visto i risultati della linea 1, del proseguimento della 1 e della imminente apertura della linea 2 che porterà a Peretola. È fondamentale collegare i nodi principali della città, Bagnarripoli è uno di questi, e mi pare che la Lega in particolare, il centro-destra anche, sulle infrastrutture abbiano delle difficoltà di pensiero, delle visioni un po' diverse. Mi ricordo la questione dell'aeroporto di qualche settimana fa, prima la Cercardi dice bisogna potenziare Pisa, poi viene smentita dallo stesso Salvini, poi ora sulle tramvie la Lega dice non vanno fatte perché chiudono le attività produttive. In Piazza Dalmazzi è vero che ci sono state grosse difficoltà, ma tutte le infrastrutture e le grandi infrastrutture delle opere pubbliche durante la loro realizzazione generano difficoltà, vogliamo ricordare la TAV qui in Mugello per esempio, però bisogna guardare lungo in politica, non allo stretto. Magari se ci sono attività produttive in difficoltà vanno aiutate durante lo svolgimento dei cantieri, vogliamo parlare dopo la realizzazione di queste attività produttive o degli stessi appartamenti che insistono lungo la linea tramviaria? È una visione migliore di breve periodo, come la Lega sta dimostrando anche con il decreto sicurezza. Occorre visione di sviluppo e di prospettiva di lungo termine. Da Ronald LPD ha questa prospettiva, la tramvia su Bagnaripoli è fondamentale, come tutti i progetti tramviari che dovranno essere portati in sviluppo nei prossimi anni. Dare su questo ha fatto un appello ai cittadini. Votatemi e datemi la possibilità di continuare lo sviluppo della città di Firenze anche nei prossimi cinque anni. Mi associo strettamente a questo appello di Dario Nardella perché ha dimostrato di saper tenere una città non semplice, perché comunque insomma i fiorentini li conosciamo tutti, siamo della stessa specie diciamo. Dario questi anni si è impegnato molto, ha portato uno sviluppo fondamentale nella città di Firenze e penso che riconfermare la sua persona potrà portare e continuare ad avere uno sviluppo importante per la città di Firenze. Queste cose della Lega non dimostrano di saper fare neanche in campagna elettorale. Senta, ma ci sono effettivamente oggi delle condizioni diverse e quindi in qualche modo più complicate per governare Firenze? Diciamola così, c'è un po' un'attenzione al contrario rispetto alla città o forse si vive oggi un contraccolpo rispetto invece all'occhio di riguardo che aveva avuto Firenze quando Renzi era Premier? Nel senso che non lo si dice apertamente però in molti mormorano oggi che ci sia una sorta di disegno in qualche modo per penalizzare Firenze proprio in campagna elettorale. Diciamo, se analizziamo tutte le polemiche nate nell'ultimo periodo oggettivamente questo lo fa pensare. Però io sono una persona pragmatica, mi piace stare sulle cose. Le infrastrutture hanno degli iteri di approvazione in particolar modo penso all'aeroporto che stanno andando avanti. Se qualche ministro vuole fare delle analisi di costi e benefici le faccia circostanziate e sentendo tutte le campagne non soltanto le campagne contrarie questo non deve generare delle ulteriori lungaggini nell'approvazione dei progetti perché quando si è al governo e questo fa il paio con quello che dicevo prima sulla banca si devono assumere le decisioni non dare la colpa a chi c'era prima oppure paventare eventuali soluzioni perché si devono prendere decisioni quando si decide si scontenta sempre qualcuno però si tende a decidere, si prova a decidere per agevolare la maggioranza questo uno deve fare al governo è più difficile stare all'opposizione ora sono al governo, decidano l'aeroporto per Firenze è fondamentale se non conoscono Firenze vengono a conoscerla come la tramvia e come la TAV le infrastrutture sono un nodo fondamentale per lo sviluppo di questa città che è nodale per il centro Italia e per tutto il paese questo è il punto Sì, e tra l'altro su questo insomma viene appunto visto che ne ha citato proprio la visita di Salvini a Firenze in cui anche proprio una domanda di una nostra giornalista insomma ribadì che per lui le opere quando sono in cantiere poi dovrebbero arrivare a termine sembra in qualche modo che i fascicoli si siano un po' divisi tra quelli che vengono gestiti dalla Lega e quelli che vengono gestiti dal Movimento 5 Stelle ma come diceva, ricordava Recati con una maggioranza anche se come dire multiforme come questa però in qualche modo bisogna fare la sintesi e non si può forse appaltare da una parte e dall'altra ti occupi di questo, io mi occupo di quest'altro perché poi ovviamente i cittadini ti rendono di conto anche di questo in campagna elettorale però la domanda le devo fare perché lei, come dire, stare all'opposizione è più facile diceva lei oggi nei territori il Partito Democratico diciamo il centro-sinistra governa in gran parte per quanto riguarda la provincia di Firenze però in vista delle elezioni anche il centro-sinistra deve fare la sintesi su alcuni temi me ne vengono in mente alcuni perché noi parliamo di infrastrutture ma ricordiamoci anche su quello ci sono visioni contrate sia all'interno dello stesso Partito Democratico a seconda dei comuni sia all'interno dell'area del centro-sinistra ad esempio tra il partito in qualche modo di cui è appannaggio Enrico Rossi il Presidente della Regione e il Partito Democratico viene in mente il termo realizzatore inceneritore a me lo voglio chiamare il termo realizzatore di Casa Passerini l'aeroporto e le infrastrutture in generale insomma sono tanti temi su cui anche voi dovete fare la quadra lo troverete prima delle amministrative con il riparto del ragionamento che ho fatto poco anzi stare al governo è più difficile perché occorre assumersi la responsabilità delle decisioni e quindi abbiamo trovato queste difficoltà oggettive sulle quali il partito cerca di lavorare e di mitigare le distanze che si vengano a trovare nei vari punti di vista diversi che ci sono sul territorio loro non riescono a trovarlo neanche dall'opposizione in campagna elettorale questo è un metro di misura secondo me non secondario detto questo noi dobbiamo farci carico di trovare la sintesi giocoforza su queste tematiche perché ne va della nostra credibilità ripeto quando si governano i territori prendere decisioni è molto più complicato però visto che ci siamo ci dobbiamo assumere questa responsabilità e cercare di arrivare in fondo mi sembra che su alcune opere ce l'abbiamo fatta perché spero e auspico che la TAV riparta la tramvia sta andando avanti sull'aeroporto l'iter è avanzato su altre ci sono delle difficoltà citava prima il termovalorizzatore la regione toscana ha una grossa difficoltà sugli impianti per lo smantimento dei rifiuti non soltanto sui termovalorizzatori questo è un fatto che secondo me già nella campagna elettorale per le amministrative dovrà essere affrontato dal partito e dovrà fare in modo di portare una prospettiva concreta per la toscana le elezioni regionali del 2020 perché non ci possiamo permettere di continuare ad andare alla spicciolata è un tema fondamentale è un tema che costa sulle tasche dei cittadini è un tema che costa sul futuro dei nostri figli dal punto di vista ambientale il partito democratico su questo deve avere una proposta concreta ferma e determinata su questo vedremo perché è uno dei temi fondamentali tra l'altro il neosegretario del paese democratico regionale Simona Bonafè è quella che in qualche modo ha portato avanti anche l'idea dell'economia circolare però ne abbiamo parlato spesso e spesso anche con recati insomma si è occupato e conosce bene a fondo la questione dei rifiuti anche nella visione giusta e insomma in qualche modo condivisibile dell'economia circolare c'è quella quota in qualche modo di residui che da qualche parte deve essere smaltita e questo sarà uno dei temi cioè i temi dell'impianti in qualche modo sarà fondamentale tra l'altro mi dà una parentesi velocissima il porta a porta insomma anche in Mugello ormai più o meno sta partendo in tanti nuovi comuni ora anche sulla Piana Campisezzo Sesto Fiorentino proprio in questi giorni in alcune zone sono rinate subito le polemiche sul porta a porta come se la raccolta differenziata non fosse mai stata fatta lei lo rivendica come sistema come metro molti criticano l'estetica diciamo così più che altro di vedere i sacchi a giro sui marciapiedi e quant'altro allora io penso che il porta a porta sia uno dei sistemi di raccolta differenziata che ci sono oggi presenti sui sistemi di raccolta come tutte le cose ha aspetti positivi e aspetti negativi per chi faceva prima la raccolta porta a porta sostanzialmente l'unica differenza nella sistemazione dei rifiuti in casa è sul vetro degli imballaggi cioè c'è da separare il vetro dagli imballaggi e levare i tappi metterli nell'imballaggio e il vetro da parte e poi di portare tutti i giorni che non è così tremendo diciamo no per chi già la faceva qui non molti diciamo che prima facevano la raccolta differenziata purtroppo e poi di dover portare tutti i giorni al cancello di casa o alla porta di casa il bidone specifico questo però è il sistema che oggettivamente dà i migliori risultati per la quantità di raccolta differenziata che si riescono a raggiungere l'impolese ne è un esempio sono ormai diversi anni che lo applicano e superano anche il 90% di differenziata ci vuole un periodo di rodaggio e in Mugello siamo a questo stadio ci sono alcune difficoltà e qui lo dico come assessore stiamo cercando con chi ci ha contattato di aggiustare le varie difficoltà faccio un esempio nelle campagne i sacchi trasparenti possono essere un problema per gli animali che gli strappano diciamo spargono a giro i rifiuti abbiamo già chiesto alla società se è possibile e sarà possibile fornire dei bidoni celesti per gli imballaggi anche le utenze domestiche anziché le utenze soltanto tipo ristorante eccetera ora siamo in regime appena arriveremo alla funzionalità ottimale del servizio valuteremo anche questa possibilità perché se lo mette all'interno di un bidone rigido il problema non si pone ci sono tante difficoltà ma il sistema di per sé funziona per farlo partire ci vuole un attimo di pazienza un attimo di calma come amministrazione siamo a disposizione dei cittadini per dare una mano anche nelle ereticità che i cittadini hanno trovato nella società però penso che sia un passaggio fondamentale prima dal punto di vista civile di prospettiva per i nostri figli e poi anche per garantire il futuro il costo del servizio perché a quel punto avremo una residua parte minima di costo di indifferenziato che è quello più pericoloso come costo effettivo del servizio e avremo invece dei costi fissi che sono gli addetti e i mezzi e quindi la possibilità in qualche modo di speriamo di riuscire a contenere diciamo gli sbalzi dei costi della tariffa chiarissimo allora ci fermiamo per 5 minuti parleremo al nostro ritorno dell'amministrativa insomma come dicevamo sono tanti i comuni anche in provincia di Firenze che vanno al voto andranno al voto nel maggio del 2019 e cercheremo di passarli in rassegna velocemente insomma vedendo quali sono le situazioni più complicate almeno per quanto riguarda il Partito Democratico ovviamente e quelle invece in cui si andrà più facilmente grazie anche alle riconferme di tanti sindaci ne parleremo tra pochissimo restate con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ben tornati in studio allora siamo con il segretario metropolitano del Partito Democratico Marco Recati parliamo adesso di amministrative insomma una tornata importante quella che vedrà il voto tra l'altro questa è un po' la prima domanda contemporaneamente sia il voto per diversi comuni 35 per quanto riguarda l'area fiorentina della provincia di Firenze insieme però al voto delle europee quanto ci sarà secondo lei uno scambio diciamo così tra i due voti cioè quanto si trascineranno a vicenda o me sarebbe meglio dire quanto il voto delle europee e quindi si basa molto anche su un voto di opinione su quello che è stato fatto da parte del governo conoscendo meno di solito i candidati che vanno appunto che andranno al Consiglio europeo rispetto quanto influiranno poi sul voto locale secondo lei ma di solito la tendenza nazionale pesa in maniera considerevole anche sulle amministrative questo però credo anche a prescindere se ci sia concomitanza o meno del voto cioè se il tuo partito ha un trend positivo poi chiaramente anche le elezioni amministrative locali in quella percentuale diciamo di voto d'opinione di sinistra o di destra o grillino chiaramente ne risente è anche vero che sui territori abbiamo una classe dirigente pronta e preparata sindaci conosciuti comuni piccoli nei quali il voto d'opinione diciamo se ne risente molto meno del voto d'opinione e quindi penso che possiamo dire la nostra in maniera più decisa proprio per questo aspetto cioè per la classe dirigente che abbiamo sui territori per i lavori e l'impegno che abbiamo messo negli stessi e per la storia che ci distingue da queste parti non sarà una partita semplice probabilmente sarà il turno elettorale più difficile almeno da quando faccio politica io però ci faremo trovare pronti altra domanda che riguarda un po' anche un trend generale che è quello del cosiddetto ricorso al civismo diciamo così o alle liste civiche per dire la maniera più semplice prima era un po' una questione che riguardava di più e soprattutto i piccoli comuni perché ovviamente si cercava di fare sintesi tra tanti modi di pensare a diversi livelli politico ma insomma in piccoli comuni in qualche modo bisognava cercare di raggruppare oggi però mi pare di capire che insomma siano molti che ci fanno ricorso alle liste civiche o di appoggio o anche propriamente candidandosi a una lista civica anche in comuni un po' più grandi questo secondo lei è una sconfitta per il partito democratico o può essere un'opportunità? Allora nelle amministrative nei comuni può essere una grossa opportunità se ci sono delle basi di condivisione politica forte ci possono essere di solito le liste civiche si identificano anche per temi ben specifici e puntuali il vantaggio del partito è proprio quello di avere una visione a 360 gradi facciamo un esempio recente la manifestazione protava a Torino le serie d'olio sono state brave perché oggi con questi chiari di luna riuscire a motivare una folla del genere pro non contro pro oggettivamente hanno fatto un'operazione importante però la stessa Torino o l'Italia non si governa soltanto essendo pro o contro TAV si dimostra sulle difficoltà che hanno i pentaleghisti su TAV sulle infrastrutture in generale e non solo i partiti nelle difficoltà che dicevamo prima ma cercano di mettere insieme un pensiero a 360 gradi che va dall'accoglienza che va dal sociale dalle infrastrutture dalle loro pubbliche eccetera e questo è il valore aggiunto che un partito dovrebbe portare a una coalizione che può prevedere all'interno anche civici liste civiche personalità civiche perché no però io ricordo sempre in questi territori il partito democratico comunque viaggia tra il 30 e il 42% quindi ancora oggi penso che si debba porre come cardine di un'alleanza di centro-sinistra che condivida dei valori fondanti e che cerchi di mettere un argine una diga a questo governo di pentaleghisti nazionalpopulisti come diceva l'ex ministro Menniti perché oggettivamente mi pare che non abbiano idee molto chiare si diceva prima oltre a creare una tensione sociale non differente perché secondo me il ministro Salvini ha un po' stappato il vaso di Pandora cioè la politica che amministra dovrebbe anche pensare alle conseguenze che porta a una dichiarazione un atteggiamento io non credo che sia bene un ministro degli interni che fa il bagno in una piscina e che per la pochezza delle polemiche comunque è il ministro degli interni è il ministro degli interni non è bene che vada a braccetto con il capo della curva milanista che è condannato anche per spaccio quando dice che gli spacciatori sono degli assassini ecco questi sono atteggiamenti secondo me che per un dirigente nazionale per un ministro di governo dovrebbero essere oggettivamente da non fare perché deve mantenere un atteggiamento rigoroso per dare l'esempio Sata quindi come dire scongiurato il rischio che qualcuno magari anche dei vostri sindaci uscenti o qualcuno che insomma appartiene alle vostre file decida di candidarsi non con il simbolo del Partito Democratico ma con una lista civica e basta questo non esiste in provincia di Firenze? No poi occorre capire anche i comuni sotto 15 mila abitanti dove si presenta una lista unica occorre vedere le situazioni nei comuni dove si presentano più liste come i comuni sotto 15 mila abitanti dove c'è il ballottaggio capita a volte che il sindaco perché ha acquisito una realtà personale anche di rispetto nei confronti di cittadini il sindaco è il sindaco di tutti in particolare dopo il 92 che viene eletto direttamente ha un imprinting che va molto oltre il partito se questo gioca a favore di un risultato positivo non ci vedo niente di strano anche se sono sindaci identificati nel Partito Democratico è capitato spesso anche lo stesso Nardella 5 anni fa aveva la proposta lista aveva una lista civica detto questo occorre che ci sia diato un progetto politico spesso si sente parlare di cartelli elettorali io penso i cartelli elettorali nascono quando si arriva troppo a ridosso delle elezioni amministrative se le alleanze elettorali e i programmi si costruiscono per tempo e si riescono a spiegare ai cittadini non è più un cartello ma una proposta politica quando si arriva un mese dalle elezioni si fanno degli accordi allora diventano dei cartelli elettorali e non portano bene succederà secondo lei anche per Lega e Movimento 5 Stelle insomma in qualche modo lì con un'alleanza che c'è a livello governativo la si potrebbe ritrovare non in un'alleanza chiara perché quello mi pare impossibile a livello locale ma forse con qualcuno come un patto di desistenza come qualcuno l'aveva chiamato in cui per non farsi del male a vicenda uno dei due decida nei singoli comuni qua o là di astenersi dal mandare un proprio candidato beh è già successo a Campi può capitare certo che può capitare esatto per quanto riguarda il centro-sinistra invece visto che oggi molti invocano stando almeno a livello governativo all'opposizione a un'unità ritrovata succederà nei comuni tra le varie anime io l'ho detto anche altre volte qui da lei penso che il partito democratico debba essere cardine di un'alleanza di centro-sinistra e credo che anche nella parte che fuori uscita dal PD nella sinistra a particolar modo nei territori si possano trovare forme di collaborazione e questo è importante anche per chi è fuori dal partito perché comunque poi quando sei al governo sei nella macchina puoi portare la tua proposta a fatti concreti non è sempre semplice perché ci sono alcuni dei fuori usciti che sono rancorosi nei confronti del PD e non sono usciti per ragioni politiche ma per ragioni più personali e con questa parte è molto difficile però io come segretario provinciale sono aperto al dialogo ora a breve sentirò anche il rappresentante di lei qui sul territorio del Mugello ho parlato con il mio collega Biagioli più volte adesso è una persona ragionevole con il quale si riesce a costruire un ragionamento e poi può portare a qualcosa non è che deve essere obbligato ma può portare a qualcosa se riesce a strutturarlo io sono per provarci dove è possibile costruire un'alleanza politica volentieri dove si dovessero fare delle accozzaglie o dove ci venisse chiesto roba inaccettabile tipo azzerate le macchine e ripartiamo scusate ma non è possibile accettare una cosa di questo tipo anche per il rispetto della classe dirigente che abbiamo costruito in questi anni anche sulle riconferme a parte qualche comune mi pare di capire che più o meno i sindaci uscenti quasi ovunque tendono a ricandidarsi sulla tempistica qualcuno mi viene in mente per quanto riguarda il Mugello ad esempio il sindaco di Ricomano ha già sciolto le riserve ha detto si ricandiderà mi viene in mente ovviamente Dario Nardella abbastanza ufficialmente ieri sera è successo per Prato anche se siamo fuori dalla provincia comunque Matteo Biffoni si è ricandidato come tempistiche siete in attesa anche di capire cosa farà il centro-destra il Movimento 5 Stelle dall'altra parte visto che gli altri schieramenti ancora invece sembrano un po' più lontani dall'indicare il candidato sì sinceramente sul centro-destra sembra sia più facile fare problemi che trovare persone che poi si possono spendere direttamente in una di sfida elettorale importante perché su questi territori non è certo semplice anche metterci la faccia per quanto riguarda le candidature o le ricandidature ho cercato di spingere forte perché se arrivasse prima della fine dell'anno avere in particolare un modo dove candidiamo persone nuove le candidature già pronte ci siamo così dappertutto siamo tutti due o tre comuni un pochino più complicati da risolvere sulle ricandidature è opportuno che comune per comune i sindaci e il partito locale validi l'opportunità della tempistica per tornare a ricandidare o a ripresentare il nostro sindaco il PD parte dal presupposto che il sindaco alla fine del primo mandato abbia fatto un buon lavoro e sia da riconfermare poi nelle situazioni di difficoltà ci si mette a un tavolino e si cerca di affrontarle al meglio mi viene in mente l'imprunenza mi viene in mente lo stesso Barberino cinque anni addietro però in linea di massima verranno riconfermati facevo l'esempio di Stefano Passatore alla quale ero presente all'assemblea del partito dove è stato riconfermato c'è un bellissimo clima è bello vedere il PD che riesce a riempire le sale anche quando è d'accordo perché purtroppo spesso riempiamo le sale quando c'è da entrare con l'emmetto e coltello tra i denti vedere un partito come a Dicomano dopo un passaggio difficile come quella della fusione anche se a Dicomano specifico il risultato è stato positivo 60-40 riesce a riempire una sala riesce a portare un contributo importante un sostegno vivace presente a proposito dove si ricandida sono esperienze che danno una mano anche ad andare avanti a ricaricarsi così insomma succederà anche molto probabilmente a Bagnarripoli anche Scandicci siamo in attesa insomma i centri più grandi dove forse le sfide sono anche un pochino più difficili anche se poi in realtà non è detto perché poi insomma anche nei centri più piccoli si può perdere il comune è possibile però insomma i centri più grandi diciamo sono quelli sotto la lente di ingrandimento della cintura fiorentina come va lì? chiaramente più che difficile o facile cambia l'approccio cambia la scala cambia l'approccio cambiano le questioni da affrontare e come affrontare le questioni è chiaro ora faccio per esempio di Grato io l'ho visto Biffoni che si è ricandidato a un teatro gremito mi è fatto molto piacere perché conosco bene Matteo anche per l'esperienza che abbiamo fatto in Regenza regionale qualche mese fa è un sindaco presente in una città comunque complicata da amministrare Scandicci il partito ha riconfermato Fallani in tempi non sospetti quindi c'è questa voglia di continuare su un percorso intrapresso parallelamente stiamo cercando di parlare con le altre forze politiche un altro aspetto positivo del partito democratico è l'organizzazione che riusciamo ancora a mantenere sul territorio avere un partito organizzato segretari che ti chiamano ti dicono quello che fanno ti chiedono un consiglio ma ti danno il senso della presenza anche di riuscire a percepire le situazioni sul luogo è un aspetto che ha tanta energia e tanta voglia di dare una mano per cercare di continuare a governare un territorio bene come abbiamo fatto fino a questo momento L'ultima questione riguarda il capoluogo diciamo così perché è ovviamente sotto la lente di ingrandimento forse a livello italiano è uno dei più attenzionati diciamo così se non il più attenzionato anche perché qui insomma viene la casa dell'ultimo partito democratico insomma della reggenza dell'ultimo partito democratico parla di Matteo Renzi e del PD a trazione renziana diciamo così anche se quella fase poi in qualche modo oggi si può dire tramontata o comunque non forte come qualche tempo fa Nardella rimane oggi il sindaco riconfermato per le prossime elezioni per la prossima tornata elettorale qualcuno ricorda il ballottaggio che fu tra Renzi e Galli come l'opportunità di portare Nardella al ballottaggio e sappiamo che con una situazione governativa come quella che tiene insieme Lega e Movimento 5 Stelle il ballottaggio un po' ovunque anche a Firenze per il PD è un po' il rischio da evitare il rischio numero uno da evitare il ballottaggio preoccupava anche quando navigavamo in acque tranquille il ballottaggio è sempre stato una preoccupazione il rischio di tutti contro uno si il rischio di tutti contro uno diciamo che fino a qualche anno fa i ballottaggi nelle situazioni normali come territori come questi dove c'è una cultura di centro-sinistra molto ampia poi il ballottaggio finiva 70-30 80-20 oggi la situazione è oggettivamente cambiata penso però che Firenze sia una città molto particolare è una città dove si vive bene è una città che ha visto un'innovazione importante sotto il segno prima di Matteo Renzi poi di Dario Nardella Dario si è ritagliato una immagine nazionale di politico nazionale non indifferente e lo si vede su svariate tematiche dall'immigrazione all'infrastrutture è riconosciuta come figura sopra Firenze che vive di luce propria diciamo penso che stia facendo un lavoro importante anche di tessitura di rapporti di mantenimento di rapporti di costruzione di ascolto dalla signora che lo ferma allo stop all'imprenditore che deve venire a investire a Firenze e questo è fondamentale per un sindaco in parte del mondo una città come Firenze credo che dietro abbia un partito organizzatissimo quello che ho detto per Dicomano vado per Firenze era la direzione di riconferma di Dario Nardella sono anche intervenuto oggettivamente per uno che fa politica è emozionante vedere una sala piena che riconferma il proprio sindaco il partito demorato non riesce a rispondere così quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene è chiaro che la Lega per quello che diceva anche lei qui è nato Matteo Renzi si è parlato tanto di Giulio Magico tante persone che hanno collaborato con Renzi sono di Firenze lo stesso Dario Nardella era vice sindaco di Matteo Renzi eccetera c'è un gran mirino c'è un mirino grosso così su Firenze della Lega e del centro-destra però penso che è una partita complicata per noi ma lo è anche per loro penso che siamo ancora nelle condizioni di fare un gran lavoro partiamo per vincere al primo turno lo dico in maniera molto chiara e se poi ci sarà ballottaggio ci riboccheremo le mani in quei 15 giorni per portare a casa il migliore dei risultati sicuramente Dario è la persona giusta per continuare e far crescere ancora di più una città fondamentale come Firenze vedremo intanto in bocca al lupo torneremo sicuramente a parlare grazie mille a Marco Recati per essere stato con noi grazie a tutti per averci seguito da casa Telegram termina qui ci vediamo domani proprio domani avremo ospite il sindaco di Prato e il riconfermato candidato per il Partito Democratico Matteo Biffoni buonasera a tutti grazie 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 a tutti